Credo che i partiti abbiano capito come mascherarsi, si sono presentati in tutte le città d'Italia, dietro tantissime liste civiche, hanno cercato di cambiare pelle per lasciare indietro tutti i danni che avevano fatto con i loro partiti, Forza Italia, Fratelli d'Italia, Partito Democratico, però questo gioco non durerà molto, perché comunque siamo destinati in qualche modo a scomparire, diciamolo. I danni rimangono nel tempo e si ritroveranno anche in seguito, per cui non lo chiamerei un flop in questo momento. Tra l'altro voglio dire che siamo un movimento giovane che sta andando avanti e credo veramente che stiamo dimostrando che questa crescita sia continua, ci sarà anche nei prossimi anni, non ci arrendiamo.